Beh, appunto, è una grande responsabilità, è un grande peso, però è anche un grande onore. Devo dire che questo mestiere sta cambiando molto ed è cambiato anche nel tempo, anche durante la mia epoca, diciamo. E dare consigli ai giovani sta diventando abbastanza difficile, perché cambia anche lo spazio del design. Il design di prodotto, non so come dire, era fondamentale. Oggi probabilmente è più importante il design di sistemi, oppure il design più etereo, meno materiale. Ma vedo che adesso i cambiamenti sono ancora molto più forti, più difficili da capire, per lo meno per persone della mia età. Probabilmente i giovani lo capiscono meglio, però è difficile dargli il consiglio giusto in questo momento.